Cari amici di Lai Channel, benvenuti alla quinta puntata della nostra serie intitolata l'ultimo messaggio nella quale stiamo esplorando il messaggio dei tre angeli, l'ultimo messaggio di salvezza e di avvertimento per questo mondo prima che ritorni Gesù. Il titolo di questa presentazione è È caduto a Babilonia, la denuncia dell'ultimo messaggio. Dopo aver esaminato nelle due puntate precedenti il contenuto del messaggio del primo angelo, in questa puntata e nella prossima esamineremo il contenuto del messaggio del secondo angelo. Prima di aprire la Bibbia insieme vi invito a pregare insieme a me. Caro Padre grazie che ci dà l'opportunità di studiare la Bibbia e di presentare questi messaggi così importanti per il mondo intero. Padre donami la potenza del tuo Spirito Santo, la chiarezza e la semplicità nello spiegare questi argomenti. So che in questa puntata e nella prossima ci saranno alcune cose che non saranno facili da ascoltare per qualcuno. Aiutali con il tuo Spirito Santo, sostienili in modo che possano aprire gli occhi e vedere la bellezza della verità e decidere di seguirla fino in fondo. Questa è la mia preghiera nel nome di Gesù. Amen. Leggiamo insieme il contenuto del messaggio del secondo angelo in Apocalisse al capitolo 14 e al versetto 8. Però prima di leggerlo ci vogliamo ricordare che il messaggio del secondo angelo segue il messaggio del primo angelo. Abbiamo visto nella prima, anzi nella seconda puntata, come questo messaggio vada predicato nel suo ordine. Quindi Giovanni vide il primo angelo volare nel mezzo del cielo con l'Evangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e dopo di lui vide il secondo angelo e poi vide un terzo angelo dice il testo che li seguì. Quindi dovunque va il primo angelo va anche il secondo angelo e dovunque vanno i primi due angeli va anche il messaggio del terzo. Però vanno predicati nel loro ordine. Anzi, il messaggio del secondo angelo esiste proprio perché è stato predicato il messaggio del primo angelo e perché le verità contenute nel messaggio del primo angelo sono state in larga parte rifiutate. Ecco perché troviamo questa denuncia nel messaggio del secondo angelo. È perché l'Evangelo eterno che abbiamo esaminato nelle due puntate precedenti, il messaggio del primo angelo che costituisce verità presente, cioè per i nostri tempi, è stato in larga parte rifiutato anche da coloro che si ritengono cristiani. Abbiamo visto nella scorsa puntata che il messaggio del primo angelo parla dell'ora del giudizio di Dio che è scoccata nel cielo nel 1844, anno nel quale Gesù ha iniziato la prima fase del giudizio di Dio, quella che precede il suo ritorno. Quindi questo messaggio, il messaggio del primo angelo, poteva essere predicato nella sua completezza soltanto dal 1844 in poi, cioè soltanto dal momento nel quale il popolo di Dio aveva capito il significato di questa frase, l'ora del suo giudizio è venuta. Abbiamo detto che la denuncia nel messaggio del secondo angelo è qui proprio a motivo del rifiuto della predicazione del messaggio del primo angelo. Quindi se il messaggio del primo angelo è stato predicato nel tempo del giudizio di Dio, quindi nella sua interezza dal 1844 in poi, questo significa che la caduta spirituale della quale parla il messaggio del secondo angelo si riferisce agli ultimi tempi. Quindi si sta parlando della caduta, vedremo di Babilonia spirituale, vedremo di definire che cos'è Babilonia spirituale, ma di una caduta che ha luogo alla fine dei tempi come conseguenza del rifiuto delle verità contenute nel messaggio del primo angelo. Leggiamo ora insieme il testo. Poi seguì un altro angelo dicendo, è caduta, è caduta Babilonia, la grande città che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione. Ecco la denuncia nell'ultimo messaggio, è caduta Babilonia. Quindi per comprendere questo messaggio dobbiamo comprendere che cosa rappresenti Babilonia spirituale. Babilonia non fu scelta a caso da Dio per identificare questo sistema nemico del popolo di Dio alla fine dei tempi. Infatti Babilonia è il nemico per eccellenza del popolo di Dio nella Bibbia. Nell'Antico Testamento infatti il popolo babilonese, l'impero babilonese distrusse Gerusalemme sotto il re Nabucodonosor e portò i giudei esuli in Babilonia dove rimasero lì in cattività per 70 anni. Quindi capite bene che per il popolo di Dio che era Israele e il regno di Israele e il regno di Giuda, il popolo di Babilonia, il babilonia rappresenta il nemico per eccellenza. Ha messo fine alla città, ha distrutto la città di Gerusalemme, il tempio di Gerusalemme nel quale c'era la presenza di Dio ed era il centro per l'adorazione del popolo di Dio. Andiamo a vedere nella Bibbia quali sono le origini di Babilonia perché così comprenderemo che cosa rappresenta Babilonia nella scrittura. Babilonia è lì per rappresentare alcuni principi e li vediamo notando qual è la sua origine e l'origine di Babilonia la troviamo nel libro della Genesi. Solamente tre generazioni dopo il diluvio troviamo l'origine di Babilonia e fu un uomo di nome Nimrod a costruire una città chiamata Babele nella pianura di Shinar in Mesopotamia e sappiamo che Babilonia sorgeva nella pianura di Shinar dal capitolo 1 di Daniele. Quindi la città di Babele è l'origine della città di Babilonia e infatti il nome Babel significa confusione perché lì a Babele Dio confuse le lingue degli uomini. Andiamo proprio a leggere della città di Babele e iniziamo però prima andando a vedere come è sorta, in quali circostanze. Abbiamo detto che sorge poche generazioni dopo il diluvio quindi gli uomini avevano ancora fresca nella loro memoria il giudizio di Dio nel diluvio. Ricordiamo che solo Noè e la sua famiglia erano sopravvissuti otto persone di tutta la popolazione mondiale e dopo il diluvio Dio aveva dato delle indicazioni, degli ordini a Noè e alla sua famiglia. In Genesi al capitolo 9 al versetto 1 troviamo che Dio disse a Noè siate fruttiferi, a Noè e la sua famiglia ovviamente, siate fruttiferi, moltiplicate e riempite la terra. Quindi Noè aveva tre figli e tutti e tre erano sposati ma senza figli quando entrarono nell'arca. Quindi Noè e i suoi figli ricevettero quest'ordine da Dio di moltiplicarsi e di riempire tutta la terra. Dio voleva che gli uomini mano a mano andassero a riempire tutta la superficie della terra e si sparpagliassero perché se gli uomini non fossero stati uniti ma divisi questo sarebbe stato una salvaguardia per il diffondersi del male. E ricordiamo che a motivo della malvagità ormai diffusa in tutta la terra che Dio aveva distrutto il mondo degli antidiluviani. Quindi Dio voleva prevenire la venuta di un secondo diluvio. Infatti Dio aveva promesso a Noè che non avrebbe più distrutto la terra tramite un diluvio. E quindi per prevenire il dilagare della malvagità Dio disse sparpagliatevi in tutta la terra. Ma vediamo che a Babele gli abitanti della terra disubbidirono a questo ordine di Dio perché si concentrarono in questa città e quindi in contrasto con l'ordine di Dio costruirono questa città anziché spargersi si unirono in un progetto, si unificarono. Andiamola a leggere in Genesi al capitolo 11 e al versetto 4. Leggiamo le parole degli abitanti della terra al tempo della costruzione della città di Babele e poi della torre di Babele come vedremo. Genesi al capitolo 11 al versetto 4. Stiamo cercando i principi che rappresentano Babilonia nella Bibbia. E Genesi 11,4 dice così. Orsù costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo e facciamoci un nome per non essere dispersi sulla faccia di tutta la terra. Vedete cosa dicono? Costruiamoci una città per non essere dispersi sulla faccia di tutta la terra. Ma Dio aveva detto riempite tutta la terra. Quindi vedete che le azioni, le parole e le azioni degli uomini a Babele contraddicono la parola di Dio. Quindi Babilonia nella Bibbia rappresenta come prima cosa ribellione contro la parola di Dio. Andiamo a vedere il secondo elemento, rileggiamo parte del testo appena letto, Genesi 11,4. Orsù costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo e facciamoci un nome, cioè una reputazione. Gli abitanti della terra volevano farsi un nome perché erano mossi dal loro orgoglio. E quindi Babilonia è l'emblema dell'orgoglio umano, della creatura che si vuole esaltare al di sopra del suo creatore. Quindi Babilonia rappresenta non solo la ribellione nei confronti della parola di Dio ma anche l'orgoglio umano. E infatti se poi andiamo a vedere la Babilonia di Nabucodonosor, guardando lo splendore della città troviamo che in un'occasione Nabucodonosor disse queste parole. Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Vedete lo spirito di autoesaltazione, di orgoglio spirituale che aveva nel suo cuore Nabucodonosor, re di Babilonia. Il terzo principio che vogliamo analizzare è la salvezza per opere. Quindi Babilonia rappresenta, abbiamo detto, ribellione contro la parola di Dio, orgoglio umano e anche la salvezza per opere. Abbiamo visto che dopo il diluvio Dio aveva promesso che non avrebbe più mandato un altro diluvio per distruggere la terra. Ecco perché Dio diede il segno dell'arcobaleno come segno di questo patto che Dio aveva fatto con l'umanità. Non avrebbe più distrutto la terra con un altro diluvio. Per cui ogni volta che pioveva gli uomini non dovevano spaventarsi perché poi la pioggia finiva e vedevano l'arcobaleno nel cielo. Segno che Dio avrebbe mantenuto la sua promessa. Non ci sarebbe stato un secondo diluvio. Ma qui troviamo gli abitanti di Babele che costruiscono una città, sì, ma una torre, il testo dice, la cui cima giunga fino al cielo. Come mai volevano costruire una torre così alta? Io credo che il testo ci stia dicendo che gli abitanti di Babele non erano affatto certi della promessa di Dio. Non erano sicuri che Dio avrebbe mantenuto la sua promessa. E quindi pensavano che nel caso fosse tornato un secondo diluvio, beh, almeno avrebbero potuto rifugiarsi in alto su questa torre, la cui cima doveva raggiungere il cielo. Quindi volevano costruire la torre più alta che potesse essere immaginata per potersi salvare in caso di un diluvio. Quindi questa torre rappresenta il tentativo umano di salvarsi con le proprie forze, con i propri mezzi. Quindi in senso spirituale rappresenta la salvezza per opere. E per inciso la salvezza per opere è qualcosa che accomuna tutte le false religioni. Tutte le false religioni in una qualche forma insegnano che l'uomo può partecipare con le sue opere ai meriti per la propria salvezza, che l'uomo ha dentro di sé le risorse per tirarsi fuori dalla sua condizione di perdizione. E l'ultimo principio che troviamo è la persecuzione del popolo di Dio. Abbiamo ricordato Babilonia il nemico per eccellenza del popolo di Dio. I babilonesi distrussero Gerusalemme, il Tempio di Gerusalemme, e deportarono i giudei. E quindi anche quando il popolo fedele di Dio si trovava a Babilonia troviamo che in Daniele capitolo 3 gli amici di Daniele furono costretti insieme a tutti gli uomini importanti dell'impero a inchinarsi di fronte a un'immagine d'oro che rappresentava la gloria di Babilonia, una città il cui splendore non sarebbe mai tramontato secondo loro, un impero che non sarebbe mai stato conquistato. Daniele non era presente in quell'occasione ma i suoi amici furono fedeli a Dio e alla sua legge e non si inchinarono di fronte a quell'immagine e come conseguenza furono gettati in una fornace ardente. Ma Dio preservò la loro vita in modo miracoloso. Però vedete come Babilonia rappresenta questi principi nella scrittura. Abbiamo detto ribellione contro la parola di Dio, abbiamo visto che rappresenta l'orgoglio umano che si esalta al di sopra di Dio e poi la salvezza per opere e la persecuzione del popolo di Dio. Troveremo tutti questi elementi in Babilonia spirituale, un sistema che è nemico del popolo di Dio. La Bibbia ce ne parla sempre nel libro dell'Apocalisse ma al capitolo 17 e ai versetti da 1 a 6. Lo leggeremo. Apocalisse capitolo 17. Inizieremo con i primi due versetti. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e parlò con me dicendomi, vieni, io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque, con la quale hanno fornicato i re della terra e gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione. Giovanni vide in visione questa meretrice, una prostituta che sedeva su molte acque e poi al versetto 3 viene detto anche che sedeva su una bestia di colore scarlatto e con la quale avevano commesso fornicazione i re della terra e gli abitanti della terra erano stati inebriati col vino della sua fornicazione. Che cosa rappresenta questa donna, questa prostituta? Nella Bibbia ci sono molti passaggi che rappresentano il popolo di Dio come una donna o la sposa di Dio nell'Antico Testamento o la sposa di Cristo nel Nuovo Testamento. Ve ne voglio citare soltanto uno in 2 Corinthians 11 al versetto 2 dove l'Apostolo Paolo disse io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio perché vi ho fidanzati a uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Quindi l'Apostolo Paolo sta parlando della Chiesa ai credenti di Corinto e vi ho voluto presentare a Cristo come al vostro sposo. È evidente che la Chiesa rappresenta la sposa e viene chiamata da Paolo una casta vergine. La verginità ovviamente è simbolo della purezza. Qui però Giovanni vide non una vergine bensì una prostituta e Dio aveva usato molte volte nell'Antico Testamento tramite i profeti l'immagine della prostituzione per parlare dell'infedeltà del popolo di Dio. Quindi il popolo si era prostituito spiritualmente nel senso che seguiva altri dei. Quindi un'immagine molto comune nella scrittura. Se una donna rappresenta una Chiesa e nell'Apocalisse abbiamo anche una Chiesa fedele rappresentata da una donna al capitolo 12, qui abbiamo una donna che è immorale, una prostituta che quindi rappresenterà sì una Chiesa ma una Chiesa infedele. Se la donna di Apocalisse 12 vestita di sole rappresenta la Chiesa, la vera Chiesa di Dio, una Chiesa pura, questa prostituta rappresenta una Chiesa infedele. E poi è anche una Chiesa che esercita un'influenza a livello globale. Non è una Chiesa sconosciuta perché dice che ha commesso fornicazione con i re della terra e gli abitanti della terra sono stati inebriati col suo vino. E vedremo nella prossima puntata particolarmente di vedere che cos'è questo vino della sua fornicazione e come inebria o intossica la mente degli abitanti della terra. Però capite che questa è una Chiesa che esercita un potere globale, siede su molte acque e lo stesso capitolo 17 dell'Apocalisse definisce che cosa sono queste molte acque sulle quali siede la prostituta perché al versetto 15 viene detto le acque che hai visto dove siede la meretrice sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Sono le nazioni della terra, sono i popoli della terra e questa donna siede sopra di loro, cioè esercita un'influenza su di loro, esercita potere sulle nazioni della terra. Ovviamente è un'influenza di tipo negativo. Andiamo a vedere i versetti 4 e 5. E la donna era vestita di porpora e di scarlato, era tutta adorna d'oro, di pietre preziose e di perle e aveva in mano una coppa d'oro piena di abominazioni e delle immondezze della sua fornicazione. Sulla sua fronte era scritto un nome, Mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Il primo elemento che vogliamo notare in questo brano è che era una chiesa ricca. Vedete, è tutta adorna d'oro, di pietre preziose e di perle e poi è vestita di porpora e di scarlato. È una chiesa i cui colori ufficiali sono la porpora e lo scarlato. È interessante perché troviamo questi colori, porpora e scarlato, però insieme ad altri colori nel santuario del deserto, il santuario che Dio aveva comandato agli israeliti di costruire perché potesse ospitare la sua presenza. E troviamo questi colori anche nelle vesti del sommo sacerdote che potete trovare descritte in esodo al capitolo 39. Troviamo la porpora, lo scarlato, ma troviamo anche un altro colore, il violetto, quindi la porpora è una tinta sul viola che ha molto rosso e quindi il violetto immagino che fosse un viola molto più scuro tendente al blu. Quindi abbiamo lo scarlato che è rosso, la porpora che è un viola, un violetto più scuro tendente al blu e poi avevamo anche il lino che è bianco e poi avevamo anche dell'oro nelle vesti del sommo sacerdote, ma anche l'oro era la copertura per alcuni arredi del santuario. Quindi questi sono i colori che troviamo nel santuario, ma è interessante perché nella descrizione della prostituta mancano alcuni colori, tra cui il violetto. E in numeri al capitolo 15 si può leggere di Dio che ha dato un ordine al popolo di Israele di mettere dei cordoni di colore violaceo sulle frange e sugli orli delle loro vesti e questi cordoni violacei avrebbero dovuto ricordare al popolo di Israele i comandamenti di Dio e quindi di osservare, mettere in pratica i dieci comandamenti. Quindi se manca questo colore nella descrizione della meretrice è perché questa chiesa ha degli insegnamenti che sono contrari alla legge di Dio. Vedete che ritroviamo i principi che abbiamo visto nella Genesi, la ribellione contro Dio, l'infedeltà a Dio e anche l'infedeltà nei confronti della parola di Dio. E quindi è una chiesa infedele alla legge di Dio. Andiamo a vedere versetto 6, l'ultimo elemento. E vidi la donna ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù e quando la vidi mi meravigliai di grande meraviglia. Quindi la donna era ebra del sangue dei martiri, quindi un potere, una chiesa che ha perseguitato il popolo di Dio. Proprio come la Babilonia dell'Antico Testamento perseguitò il popolo di Dio. Troviamo che Babilonia spirituale ha perseguitato e scopriremo perseguiterà nella crisi finale della storia umana il vero popolo di Dio. Questa descrizione così dettagliata, tutti questi elementi non lasciano spazio a dubbi. Babilonia spirituale, anzi la meretrice, il cui nome scritto in fronte era Mistero Babilonia la Grande, rappresenta la Chiesa Cattolica. Non ci possono essere dubbi su questo fatto. Tra parentesi tutti i riformatori protestanti hanno identificato nella prostituta del capitolo 17 dell'Apocalisse la Chiesa Cattolica. Sicuramente è una Chiesa che è infedele a Dio perché alcuni dei suoi insegnamenti sono contrari alla parola di Dio. Anche come si è interfacciata con i re della terra, il potere che ha esercitato sui re della terra, una relazione illecita con i re della terra, perché la fornicazione è una relazione illecita agli occhi di Dio. E poi abbiamo una Chiesa che sicuramente esercita un'influenza globale. La Chiesa Cattolica sicuramente ha esercitato un'influenza nel Medioevo, in Europa, ma oggi anche possiamo dire a livello globale. Il Papa è un leader rispettato in tutto il mondo. I suoi colori ufficiali sono la porpora e lo scarlato ed è sicuramente una Chiesa molto ricca. Il suo marchio di fabbrica e l'unione di Chiesa e Stato, e ritorneremo su questo pensiero. Sicuramente i suoi insegnamenti, abbiamo detto, sono contrari alla legge di Dio e la Chiesa Cattolica purtroppo, specialmente nel corso dei lunghi secoli del Medioevo, ha perseguitato quello che era il popolo fedele di Dio. Torniamo in Apocalisse 14 e rileggiamo il messaggio del secondo angelo al versetto 8. Poi seguì un altro angelo dicendo «è caduta, è caduta Babilonia, la grande città, che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione». Il testo ripete per due volte che Babilonia spirituale è caduta. È caduta, è caduta Babilonia, la grande città. Voglio suggerirvi che se la Chiesa è caduta vuol dire che aveva iniziato bene e poi ha vissuto una caduta morale, una caduta spirituale. Ma per cadere vuol dire che il luogo o la posizione dalla quale era caduta era buona. Quindi la Chiesa aveva iniziato bene e poi a un certo punto della sua storia è caduta, ha avuto una caduta spirituale, si è allontanata da Dio. La profezia, ripetendo il termine «è caduta» due volte, è caduta, è caduta Babilonia, io credo che ci voglia indicare due cadute nella storia della Chiesa. Vedremo che sono due cadute molto distanti nel tempo, perché la prima caduta della Chiesa avvenne proprio nei primi secoli dopo Cristo, a partire, diciamo, in particolar modo dal terzo secolo, terzo quarto secolo dopo Cristo. E troviamo che l'Apostolo Paolo parlò di questa caduta futura della Chiesa cristiana. Sapete che anche l'Apostolo Paolo ha fatto delle profezie nei suoi scritti. E una di queste la andiamo a leggere in 2 Tessalonicesi al capitolo 2 e al versetto 3. 2 Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 3. Nessuno vi inganni in alcuna maniera perché quel giorno non verrà, e Paolo sta parlando del giorno del ritorno di Gesù, ok? Quel giorno non verrà, Gesù non ritornerà se prima non sia venuta l'Apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Quindi l'Apostolo Paolo sta dicendo Gesù non ritornerà prima che la Chiesa cadrà in apostasia. Ci sarà un'Apostasia che precederà il ritorno di Gesù. Il termine greco tradotto con apostasia significa letteralmente separazione o divorzio. Quindi la Chiesa che era la sposa di Cristo, era sposata con Cristo, avrebbe divorziato dal suo sposo, Cristo, e si sarebbe allontanata, separata da Lui. La Chiesa aveva iniziato bene nella potenza dello Spirito Santo, che era sceso sui discepoli a Pentecoste, e l'Evangelio era stato diffuso in tutto il mondo di allora, in poco tempo, in relativamente poco tempo. La Chiesa aveva preso sul serio il grande mandato affidatole da Gesù. Ma Gesù stesso nell'Apocalisse ebbe qualcosa da dire alla Chiesa del primo secolo e disse che aveva abbandonato il suo primo amore. Quindi già nel corso dei decenni del primo secolo la Chiesa non aveva più il primo amore, che aveva caratterizzato i primi decenni, il primo periodo. E gradualmente, e questo lo possiamo leggere in molte delle epistole degli Apostoli nel Nuovo Testamento, le epistole di Paolo, ma anche la seconda epistola di Pietro, le epistole di Giovanni, l'epistola di Giuda, si erano infiltrate progressivamente nella Chiesa cristiana delle eresie, dei falsi insegnamenti. Ma fino a che gli Apostoli erano in vita, diciamo che la Chiesa ha saputo smascherare questi falsi Apostoli, questi falsi insegnanti, ed è quello che Gesù elogia della Chiesa di Efeso in Apocalisse 2, che rappresenta la Chiesa del primo secolo dopo Cristo. Quindi da una parte c'è il rimprovero che aveva abbandonato il primo amore, ma dall'altra ancora smascherava i falsi insegnanti e li denunciava come bugiardi. Alla luce delle scritture gli insegnamenti, i falsi insegnanti, venivano esaminati. I loro insegnamenti venivano esaminati e rifiutati sulla base delle scritture. Ma con la morte degli Apostoli abbiamo una transizione e progressivamente iniziano a entrare falsi insegnamenti nella Chiesa. E fino a che troviamo una caduta spirituale, una caduta morale della Chiesa, già nel terzo, a partire dal terzo secolo dopo Cristo. L'apostasia della Chiesa fu lenta, fu graduale, ma fu costante. E qua l'Apostolo Paolo parla del fatto che questa apostasia avrebbe portato all'arrivo dell'uomo del peccato, il figlio della perdizione. E queste espressioni indicano il potere dell'anticristo che è rappresentato dal papato. E il papato iniziò il suo dominio poi nel 538 dopo Cristo, un dominio del quale ci parla il libro di Daniele al capitolo 7. Alcuni eventi cruciali ebbero luogo nel quarto secolo per portare all'apostasia della Chiesa cristiana. Con Costantino il cristianesimo diventò la religione ufficiale dell'impero e in questo modo masse di pagani entrarono a far parte della Chiesa cristiana. E purtroppo con questi pagani entrarono nella Chiesa anche diverse tradizioni pagane. Quindi pagani entrarono nella Chiesa cristiana ma non abbandonarono necessariamente tutti i loro riti e tutte le loro credenze. Infatti qualcuno ha definito il cristianesimo di questi secoli un paganesimo battezzato. Era come se questo paganesimo era entrato nelle acque pagano e ne fosse uscito dall'acqua con un'etichetta cristiana ma nell'essenza era ancora paganesimo. Le verità della parola di Dio furono sostituite progressivamente da teorie umane da tradizioni pagane quali per esempio il culto delle immagini, l'immortalità dell'anima, la sacralità della Domenica che era venerata come giorno del Dio Sole dai pagani. E quindi il Dio Sole, il giorno del Dio Sole diventò il giorno del Signore perché si diceva che il Signore Gesù era il Sole di giustizia come è descritto in Malachia e quindi questa hanno trasposto quindi il giorno del Dio Sole al giorno del Sole della giustizia Gesù Cristo quindi il giorno del Signore. In onore veniva detto della sua risurrezione che è avvenuta di domenica. Altre pratiche sicuramente non bibliche sono la confessione dei peccati a dei sacerdoti oppure l'insegnamento che il Papa è il vicario di Cristo sulla terra o l'intercessione dei Santi e di Maria. Tutte queste false credenze di origine pagana si sono infiltrate purtroppo nella Chiesa. Torniamo in Apocalisse 17 e rileggiamo i versetti 1 e 2. Il testo dice così, poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne parlò con me dicendomi vieni io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque con la quale hanno fornicato i re della terra e gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione. La Chiesa, abbiamo visto la Chiesa Cattolica rappresentata dalla meretrice, ha fornicato, ha commesso fornicazione con i re della terra. La fornicazione in greco è porneia, rappresenta una relazione sessuale illecita agli occhi di Dio, una relazione sessuale contraria alla volontà di Dio. Quindi abbiamo detto che la Chiesa è caduta in apostasia, cioè si è allontanata da Cristo, ha divorziato da Cristo che è il suo sposo e allontanandosi da Cristo, divorziando da Cristo, si è però unita ai re della terra. Quindi il Papa è contemporaneamente capo della Chiesa e capo dello Stato in città del Vaticano. Questo è il marchio di fabbrica della Chiesa Cattolica, l'unione di Chiesa e Stato. E questo l'abbiamo visto realizzato nei secoli bui del Medioevo nel nostro continente, in Europa. Perché il Papa ha dominato sui re d'Europa, usando la sua influenza e il suo potere e anche le sue minacce per raggiungere i suoi scopi. Quindi il Papa ha utilizzato la sua influenza politica e religiosa affinché i re della terra eseguissero i suoi scopi. In questo senso la Chiesa ha fornicato con i re della terra, aveva una relazione illecita con i re della terra. La Chiesa usava i re per i suoi scopi e questo è una relazione illecita agli occhi di Dio. Perché lo Stato ha la sua sfera e la Chiesa ha la sua sfera e devono stare ben separate. Perché ogni volta che abbiamo unione di Chiesa e Stato abbiamo come risultato l'intolleranza e la persecuzione. Ma lo vedremo anche nelle future puntate di questa serie. Abbiamo detto che il messaggio del secondo angelo segue il primo e il messaggio del primo angelo è predicato nell'ora del giudizio e annuncia anzi che è già venuta l'ora del giudizio di Dio. Quindi siccome il messaggio del primo angelo poteva essere pienamente predicato solo nel tempo del giudizio e quindi solo dal 1844 in poi e il messaggio del secondo angelo segue il primo a motivo del rifiuto del messaggio del primo angelo ne consegue che la caduta della quale si parla nel messaggio del secondo angelo deve essere alla fine dei tempi. Capite? Se il messaggio del primo angelo viene predicato alla fine dei tempi ed è rifiutato e la denuncia del messaggio del secondo angelo è a motivo del rifiuto del primo angelo. Vuol dire che la caduta spirituale riguarda la fine dei tempi. Abbiamo letto è caduta e caduta a Babilonia sono due cadute molto lontane tra di loro nel tempo. La prima caduta della chiesa cristiana è nei primi secoli dopo Cristo. Ma poi abbiamo un'altra caduta spirituale e questa è alla fine dei tempi come risultato del rifiuto delle verità contenute nel messaggio del primo angelo. E vediamo che cos'è. Apocalisse 17 al versetto 5 vediamo che cos'è questa seconda caduta di Babilonia spirituale. Il testo dice sulla sua fronte cioè sulla fronte della prostituta era scritto un nome mistero Babilonia la grande la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Abbiamo visto che la meretrice rappresenta la chiesa cattolica Babilonia la grande alla scritto in fronte ma il testo dice che la prostituta è madre delle meretrici. Quindi è madre, ha delle figlie e anche queste figlie sono meretrici come la loro madre. Quindi ci sono altre chiese infedeli che in parte seguono l'esempio della chiesa cattolica e queste sono le chiese protestanti. Sono anch'esse meretrici perché non hanno rifiutato alcune false dottrine insegnate dalla chiesa cattolica. Ancora in parte insegnano dottrine che sono parte del credo cattolico o sono attaccate a false tradizioni umane. Certo le chiese protestanti hanno riscoperto molte verità bibliche e hanno rifiutato molte tradizioni cattoliche. Per esempio le chiese protestanti credono all'autorità della scrittura e quindi hanno rifiutato il concetto della tradizione cattolica. La tradizione non è sullo stesso piano della scrittura. Le chiese protestanti insegnano il principio della sola scrittura cioè la bibbia e la bibbia soltanto come unica regola di fede. Le chiese protestanti credono alla salvezza per grazia mediante la fede e quindi nel credere alla salvezza per grazia hanno rifiutato la falsa dottrina cattolica della salvezza per opere. Le chiese protestanti credono al battesimo per immersione di persone adulte che hanno scelto consapevolmente di seguire Gesù anche se a onor del vero non tutte le chiese protestanti praticano il battesimo per immersione soprattutto le prime chiese che si sono staccate dal cattolicesimo le chiese riformate non praticano ancora oggi il battesimo biblico però molte chiese protestanti evangeliche praticano il battesimo biblico e quindi nel farlo hanno rifiutato il falso insegnamento della chiesa cattolica del battesimo dei neonati e anche del battesimo per aspersione e non per immersione completa. Poi le chiese protestanti credono all'intercessione di Gesù e nel farlo hanno rifiutato l'intercessione dei santi e di Maria credono che possiamo confessare i nostri peccati direttamente a Dio e in questo rifiutano l'insegnamento cattolico della confessione dei peccati al prete. Però il problema delle chiese protestanti è che pur avendo riscoperto molte verità bibliche continuano a ignorarne altre e quindi certamente aver scoperto già solo la salvezza per grazia mediante la fede e l'intercessione di Gesù queste sono le cose necessarie alla salvezza e questo è un passo importante per uscire da Babilonia spirituale ma siccome non hanno rifiutato tutte le dottrine cattoliche le false dottrine cattoliche le chiese protestanti non sono uscite completamente da Babilonia hanno fatto dei passi verso l'uscita diciamo così verso la porta di uscita ma sono ancora dentro un credente per uscire completamente da Babilonia spirituale deve rifiutare tutte le false dottrine della chiesa cattolica la chiesa madre e continuando quindi a condividere alcuni errori di Babilonia spirituale della meretrice queste chiese rimangono parte di Babilonia spirituale perché anche queste chiese protestanti hanno rifiutato in parte le verità del messaggio del primo angelo e pur aderendo almeno in teoria al principio di sola scrittura la Bibbia e la Bibbia soltanto in realtà rimangono attaccate ancora ad alcune tradizioni umane come per esempio la sacralità della domenica anche se è vero che non tutte le chiese protestanti o evangeliche credono che la domenica sia giorno del Signore ma alcune ancora credono che la domenica sia giorno del Signore e la seconda che è ancora più diffusa del concetto della sacralità della domenica la seconda tradizione è l'immortalità dell'anima quindi la seconda caduta di Babilonia alla fine dei tempi riguarda le chiese protestanti che hanno rifiutato in larga misura le verità contenute nel messaggio del primo angelo che sono la validità di tutti i comandamenti incluso il sabato che sono la dottrina dello stato dell'uomo nella morte e del giudizio pre avvento la prima fase del giudizio di Dio che deve precedere il ritorno di Gesù e anche il messaggio della cura della salute queste sono le verità contenute nel messaggio del primo angelo e in larga parte rifiutate anche dai chiese protestanti quindi la seconda caduta di Babilonia alla fine dei tempi riguarda le chiese protestanti volevo leggervi un brano del libro il gran conflitto che parla proprio di questo dice il messaggio di Apocalisse 14 che annuncia la caduta di Babilonia si applica a quei gruppi religiosi che un tempo erano puri e poi si sono gradatamente corrotti poiché questo messaggio segue quello che annuncia il giudizio ne deriva che deve essere dato negli ultimi giorni quindi non può riferirsi solo alla chiesa di Roma perché la sua caduta era nei primi secoli in quanto questa si trova in tale stato di decadimento ormai da molti secoli quindi il messaggio del secondo angelo è una denuncia non solo per la chiesa cattolica anche per quelle chiese protestanti che hanno rifiutato il messaggio del primo angelo quindi anche le chiese protestanti come la chiesa apostolica avevano iniziato bene il loro percorso ma poi sono cadute moralmente non accettando nuove verità che venivano riscoperte da alcuni gruppi religiosi e lo spirito del protestantesimo il del vero protestantesimo che i riformatori avevano e si è andato gradatamente perdendosi all'interno delle chiese protestanti e quindi col tempo i credenti hanno iniziato a diffidare del scusate ad affidarsi completamente anziché alla scrittura hanno iniziato ad affidarsi completamente alla parola dei pastori o al loro credo senza investigare le scritture le chiese protestanti hanno dei credi e quindi i loro membri si sono affidati a quel credo senza continuare a investigare le scritture per scoprire se vi fossero altre verità che non avevano ancora compreso e quindi la colpa delle chiese protestanti che di fatto si sono fermate nella loro riscoperta della verità a dove si erano fermati i loro padri fondatori e così i luterani si sono fermati dove si era fermato lutero e i calvinisti dove si era fermato calvino quindi il fatto che si siano affidati a pastori o al loro credo è il motivo principale per il quale hanno rifiutato in larga parte le verità proclamate dal messaggio del primo angelo questo è il messaggio che il vero popolo di dio deve proclamare in tutto il mondo prima del ritorno di gesù e dio ha suscitato un movimento il movimento avventista perché potesse portare a compimento l'opera iniziata dai riformatori protestanti e quindi il movimento avventista non nasce nel vuoto ma sicuramente porta avanti molte verità già riscoperte dai riformatori protestanti ma ne ha aggiunte altre che in larga misura erano trascurate da dalle chiese protestanti quindi rifiutando queste verità le chiese protestanti sono cadute leggo sempre dal libro il gran conflitto e dice così siccome hanno continuato a rigettare le speciali verità per il nostro tempo esse cioè le chiese protestanti sono cadute sempre più in basso ma non si può dire non si può ancora dire che caduta è babilonia poiché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira della sua fornicazione quindi qua sta citando il messaggio del secondo angelo e dice non si può ancora dire che babilonia è completamente caduta a livello spirituale ma davanti a leggere essa non l'ha ancora fatto a tutte le nazioni cioè non ancora dato a loro da bere il vino della sua fornicazione lo spirito di conformità al mondo e di indifferenza verso le precise verità per il nostro tempo esiste e guadagna terreno nelle chiese di fede protestante in tutti i paesi cristiani queste chiese sono incluse nella solenne e terribile denuncia del secondo angelo non di meno l'opera di apostasia non è ancora giunta al culmine quindi non sono ancora completamente cadute queste chiese come sistemi teologici il messaggio del secondo angelo notiamo che è l'unico dei tre che non è predicato a gran voce il messaggio del primo angelo e del terzo angelo sono proclamati a gran voce ma il messaggio del secondo angelo no e il motivo è proprio questo quando dice è caduta è caduta babilonia parlando della caduta morale delle chiese protestanti alla fine dei tempi il messaggio non può essere ancora proclamato a gran voce perché la caduta di queste chiese non è ancora completa e la caduta di queste chiese sarà completa quando daranno da bere del vino della loro fornicazione a tutti gli abitanti della terra cioè quando addempiranno le profezie contenute nel capitolo 13 dell'apocalisse imponendo un sistema di falsa adorazione a tutti gli abitanti della terra però ci sarà un tempo nel quale il messaggio del secondo angelo verrà ripetuto e questa volta sì a gran voce andiamo in apocalisse 18 leggiamo i versetti da 1 a 3 e dopo queste cose vi discendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande potestà e la terra fu illuminata dalla sua gloria esamineremo il capitolo 18 in un prossimo una prossima presentazione di questa serie ma anche questo angelo come i tre di apocalisse 14 rappresenta il popolo di dio degli ultimi tempi andiamo a vedere che cosa dice il versetto 2 egli gridò con forza e a gran voce dicendo è caduta è caduta babilonia la grande ed è diventata una dimora di demoni un covo di ogni spirito immondo un covo di ogni uccello immondo ed abominevole perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione il re della terra hanno fornicato con lei e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo sfrenato lusso il capitolo 18 dell'apocalisse ci porta nel tempo in mezzo alla crisi finale del marchio della bestia quindi se ora il messaggio del secondo angelo non può essere proclamato a gran voce come il primo e il terzo per il fatto che la caduta di babilonia spirituale non è ancora completa quando però le profezie di apocalisse 13 saranno dempiute questo falso sistema di adorazione globale sarà imposto agli abitanti della terra allora ci troveremo già all'interno della crisi finale della storia umana della crisi del marchio della bestia e in quel periodo quando il marchio della bestia sarà una realtà il popolo di dio allora predicherà a gran voce anche il messaggio del secondo angelo è caduta è caduta a babilonia perché in quel momento storico la profezia sul marchio della bestia e quindi sulla caduta completa di queste chiese non sarà più profezia ma sarà già storia sarà già nel passato ecco perché questo messaggio acquisterà forza quando il marchio della bestia diventerà una realtà perché allora sì la caduta morale delle chiese cristiane delle chiese protestanti sarà completa quel tempo non è ancora arrivato in quel tempo ci sarà un'ultima chiamata ad abbandonare babilonia spirituale e la vedremo in un messaggio di questa serie ma anche se quel giorno non è ancora arrivato anche se la caduta di questi sistemi religiosi non è ancora completa anche se il marchio della bestia non è ancora una realtà in mezzo a noi dio ti chiama oggi a seguire la sua parola e tutto ciò che insegna e quindi se sei all'interno di un gruppo religioso che ha ancora delle tradizioni che non sono bibliche al suo interno il signore ti sta chiamando oggi a seguire completamente la sua verità e di questo parleremo di più nella prossima puntata ma il signore ci invita oggi se udiamo la voce del suo spirito non induriamo il nostro cuore ma seguiamo il signore e la sua verità dovunque ci ci porterà preghiamo insieme caro padre ti ringraziamo perché la tua parola ci apre gli occhi ci apre gli occhi su tante realtà e anche sul fatto che le chiese che si dicono cristiane perfino quelle che si sono staccate dal cattolicesimo con la riforma protestante in realtà non seguono completamente il messaggio dell'evangelo eterno così come è annunciato in apocalisse 14 ma questo è il messaggio che il mondo ha bisogno di sentire nella sua interezza e perciò ti prego per tutti i miei amici fratelli e sorelle che stanno ascoltando che se si accorgono che il corpo religioso del quale fanno parte non insegna pienamente le verità contenute nel messaggio del primo angelo possa decidere però personalmente di seguire completamente questo messaggio e di voler unire la sua voce a quella della chiesa del rimanente nel proclamarlo nella sua interezza a un mondo che ha bisogno di sentirlo ti ringrazio per ciò che vorrai fare con il tuo spirito guidando credenti sinceri a comprendere pienamente la verità per questi tempi nel nome di gesù amén grazie a tutti